Poracci come non riconoscere il videogioco ufficiale di Burger King Gnomic è stato il più rapido di tutti, velocissimo, mentre Wolf se ne è uscito con una vera perla poraccia Cooking Poro, l'unico simulatore di cucina approvato dall'armata poraccia Ma bene andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di Youtube Italia dove si parla di videogiochi senza che il presentatore venga preso a schiaffi Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, analizzeremo il successo di Kirby e la Terra Perduta Discuteremo se sia possibile o meno il ritorno della serie di Call of Duty su Nintendo Switch e daremo l'addio a FIFA Prima di iniziare però vi invito a completare la vostra poromorfosi mettendovi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del poroverso Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi anche sul sito Viola dove oggi alle 22 continueremo il TG Poro però in live Trovate tutti i link in descrizione Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e inizierei con un rumor che ci accompagna in realtà da venerdì scorso e coinvolge Sony e Spartacus Il rumoreggiato servizio in abbonamento che dovrebbe entrare in diretta competizione con il Game Pass di Microsoft Nelle precedenti edizioni del TG Poro abbiamo parlato più volte di Spartacus Un nuovo abbonamento a cui Sony starebbe lavorando per unificare l'offerta del PlayStation Plus e del PlayStation Now Per mettersi in diretta competizione con il Game Pass di Microsoft Ne abbiamo sentite di tutti i colori, dal probabile prezzo fino alla sua offerta contenutistica Ma un report di Bloomberg di venerdì scorso ha sganciato la bomba Molto probabilmente Spartacus sarà annunciato ufficialmente da parte di Sony nel corso di questa settimana Quindi non ci resta che aspettare e vedere se le previsioni di Jason Schreier e Bloomberg sono corrette? Intanto però ditemi, cosa vorreste vedere offerto da un servizio del genere? Secondo voi Sony ha le capacità di contrastare l'ottimo modello commerciale del Game Pass proposto da Microsoft? Visto che stiamo parlando di abbonamento, Rockstar ha annunciato che il 29 marzo sarà lanciato GTA Plus Un nuovo servizio a pagamento mensile pensato per i giocatori di GTA Online Il Plus sarà disponibile su console Microsoft e PS5 e costerà 6 dollari al mese E garantirà 500.000 crediti della valuta in game a cadenza mensile, sconti esclusivi, bonus, upgrade speciali per i veicoli E anche accesso a nuove attività che permetteranno di recuperare degli update di gioco magari persi la prima volta Una scelta abbastanza inaspettata ma che a conti fatti si sposa perfettamente con l'idea di continuare a monetizzare all'infinito con GTA 5 e GTA Online Di cui è stata appena pubblicata tra l'altro una nuova versione per la next gen Però la domanda è, con tutti questi servizi in abbonamento, c'è veramente chi è disposto a farsi carico di altri 6 dollari solo per dei vantaggi su GTA Online? Sempre di Plus si parla, ma questa volta di Pacman Museum Una collection di ben 14 titoli differenti presi direttamente dal passato di una delle più grandi icone dei videogame Pacman La pubblicazione è prevista per il 27 maggio e la collection sembra offrire una selezione di tutto rispetto Che a dei grandi classici unisce anche degli esperimenti meno noti, sicuramente degni di essere provati Visto che queste raccolte molto spesso sono rivolte ai non più giovanissimi, tipo me I collezionisti saranno felici di sapere che è stata annunciata una versione fisica di Pacman Museum Plus Anche se per ora in occidente è confermata solo l'edizione nordamericana Speriamo che Bandai Namco pensi anche al pubblico europeo Certo che tra questo e la collection delle tartarughe ninja non so quale sia il pacchetto più corposo Voi prenderete una di queste raccolte dal sapore nostalgico? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e spero che tutti quanti voi abbiate passato il weekend nerdando duro su Kirby e la Terra Perduta Io anche se non ho avuto tantissimo tempo per giocarci lo sto letteralmente adorando E non vedo l'ora di potervene parlare in modo più approfondito qua sul canale Intanto però possiamo analizzare i primi dati di vendita dell'esordio in tre dimensioni di Kirby E si tratta di un successo? Decisamente i risultati di questo primo weekend nel Regno Unito parlano chiaro Prendendo in esame solo le copie fisiche, Kirby e la Terra Perduta risulta il gioco più venduto in UK Distanziando di netto il secondo classificato, un altro gioco pubblicato la scorsa settimana Tiny Tinas Se confrontato con Star Allies, che ha avuto il miglior debutto di sempre all'interno della serie La Terra Perduta ha venduto più del doppio e in meno di una settimana si è già posizionato tra i primi 5 capitoli più venduti di sempre Superando il pennello arcobaleno il poco al di sotto di Kirby's Adventures per Wii Considerando l'incidenza che al giorno d'oggi hanno le copie digitali è probabile che in poco tempo Quest'ultimo capitolo riuscirà a entrare nell'olimpo dei giochi di Kirby più venduti E magari riuscirà anche a battere il best seller della serie, Kirby's Dream Land Saldamente in testa alla classifica con oltre 5 milioni di copie vendute Un successo simile a quanto visto con Metroid Dread Speriamo che Nintendo capisca che investire anche in queste serie minori tra le sue IP principali Porta degli ottimi risultati anche grazie all'enorme diffusione di Switch E chissà che il futuro di Kirby da qui in avanti non sia solo in tre dimensioni Il successo della Terra Perduta potrebbe rappresentare veramente l'inizio di un nuovo corso per il platform Brutte notizie invece per Ghostwire Tokyo che non riesce a entrare in classifica E per Stranger of Paradise le cui vendite sono drasticamente crollate in poco meno di una settimana Confermandosi come uno dei più grandi flop mai visti a tema Final Fantasy Stabili invece Elden Ring, Pokémon Arceus e FIFA 22 E indovinate un po' rientra nella top 10 anche Mario Kart 8 Deluxe Un titolo semplicemente immortale Poracci cosa ne pensate di questa classifica? Ora scendiamo nel territorio dei rumor Perché secondo alcune indiscrezioni Activision sarebbe pronta a far debuttare su Switch una delle sue serie più redditizie Infatti dopo anni di assenza potremo finalmente vedere il ritorno di Call of Duty su una piattaforma Nintendo Una piccola premessa È vero, questo rumor parte da un leaker, Rals Valve Ma ci sono anche delle dichiarazioni ufficiali che tendono ad avvalorare le indiscrezioni Lo scorso mese il presidente di Microsoft Brad Smith aveva confermato che la serie di Call of Duty dopo l'acquisizione di Activision Sarebbe continuata ad essere multipiattaforma e anzi che le intenzioni erano quelle di farla prodare anche su Switch Quindi si tratta di uno scenario che ha delle sue solide basi E per Rals Valve Activision starebbe valutando l'ipotesi di colmare il buco tra le release principali Che non avranno più una cadenza annuale con il remaster di vecchi titoli In particolare la remaster uscita nel 2016 su Xbox One e PlayStation 4 di Modern Warfare Uno degli episodi più iconici della serie dovrebbe servire da capitolo introduttivo al brand su Switch Call of Duty è assente da una piattaforma di Nintendo ormai da un decennio Quando su Wii U si affacciarono Black Ops 2 nel 2012 e Ghosts nel 2013 Come ipotesi è così assurda? Beh, considerando la base installata direi proprio di no Anzi è strano pensare che un passaggio del genere non sia ancora avvenuto Sarà cruciale però capire come Activision deciderà di gestire un'operazione del genere Soprattutto per quanto riguarda il comparto multiplayer Una delle attrattive fondamentali del brand di COD Che però al tempo stesso è il tallone d'Achille della Switch Secondo voi quale potrebbe essere la migliore soluzione per un Call of Duty su Switch? Magari rilasciare varie campagne single player stand alone O proporre pacchetti completi Magari comprendendo più episodi di una stessa sottoserie e qualche modalità online Non lo so, fatemi sapere E chiudiamo parlando del calcistico più venduto di sempre Perché il matrimonio tra EA e FIFA sembra in procinto di concludersi Se ne parla ormai da diversi mesi Ma per Jeff Grabb siamo ormai arrivati a un punto di rottura I marchi registrati di cui si è discusso in passato Ovvero EA FC Dovrebbero indicare proprio il nome della prossima produzione calcistica di Electronic Arts Che sarà intitolata EA Sports Football Club Grabb afferma di aver ricevuto delle conferme che il publisher americano Sarebbe pronta ad allontanarsi in modo definitivo dalle licenze di FIFA E sempre, secondo il giornalista, a breve dovrebbero arrivare comunicazioni ufficiali a riguardo Il punto è che l'accordo decennale tra FIFA e EA dovrebbe scadere con i mondiali in Qatar Quindi è probabile che FIFA 23 sarà l'ultimo episodio della serie a mantenere la titolazione classica Gioco che, a quanto pare, introdurrà anche due campionati del mondo Sia maschile che femminile Una sorta di commiato dalla FIFA e dal suo mondo Quindi EA sembra pronta a spiccare il volo da sola Mentre la FIFA starebbe cercando attivamente nuovi partner a cui vendere le sue licenze Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi vere Saremmo in procento di un cambiamento epocale all'interno del mondo dei calcistici A cui si aggiungono anche lo scivolone di Konami con i football E le ambizioni del fair to play UFL Voi poracci lo avreste mai detto? Che uno dei settori più ristagnanti dell'industria Avrebbe visto nell'arco di pochi anni degli stravolgimenti così radicali? E questo era tutto per oggi Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo E vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 22 sul sito Viola Per continuare in live il TG Poro Altrimenti a domani con un nuovo video In ogni caso voi mi raccomando riposatevi Fate i bravi ma soprattutto nerdate duro Io sono il Poro Call, Michele Fifa Ciao! Ehi 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 fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile Mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime e anche live esclusive Dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione E ricordati che Poracci si diventa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti